Se da un lato il maltempo in Basilicata ha influito non poco sulla tradizionale gita fuori porta, dall'altro ha riportato la neve sulle maggiori vette della regione. Qui siamo sul Sirino tra Lauria e Lago Negro a quasi 2000 metri di altitudine e questi sono gli unici impianti che hanno aperto per Pasquetta. Beh è andata abbastanza bene, nonostante la nevicata che c'è stata in atto per la prima settimana di aprile avere questa nevicata è decisamente insolita e suggestiva. Infatti chi è stato sulle nostre piste comunque vada e si è divertito. Turisti provenienti per lo più dalla Puglia ma non solo. Da dove venite? Da Palagiano, Taranto. Come questa Pasquetta qui suona? Per cambiare un po' visto che quest'anno non ho fatto la settimana bianca che faccio come tutti gli anni, sono preferito venire qui con gli amici. Poi l'ultimo giorno quindi chiudiamo in bellezza e speriamo di continuare a divertirci anche se il tempo è un po' incerto però tutto sommato si può fare. Sta sciando, a sciato, com'è andata questa giornata di Pasquetta? È andata molto bene, abbastanza bene. Contento della neve di com'è andata finora. Sta nevicando però si può continuare a sciare. Dove viene? Da Brienza. Veniamo da Martina Frank e veniamo da 4-5 anni qui sempre in montagna. Ma perché si sceglie di trascorrere la Pasquetta in montagna? La neve, la neve è l'attrazione e poi mangiare bene, mangiare in montagna prodotti locali.